il giorno 14 dicembre 2021 verso le ore 22 il marito di Liliana Resinovic presenta presso la questura di Trieste denuncia di allontanamento volontario di sua moglie sempre in data 14 12 2021 proprio a seguito di questa denuncia di scomparsa viene attivato dalla prefettura di Trieste tramite apposito modello PEC attivazione delle ricerche in zona antropizzata modello 2 avente come oggetto comunicazione di attivazione del piano provinciale per la ricerca di persona scomparsa la PEC della prefettura veniva inviata alle seguenti istituzioni comune di Trieste comune di Duino Aurisina comune di Morrupino comune di Muggia comune di Sandorligo della Valle Dolina comune di Sgonico questura di Trieste comando provinciale dei carabinieri di Trieste e comando provinciale della guardia di finanza di Trieste nella PEC veniva specificato che il personale della questura di Trieste è incaricato al coordinamento operativo della ricerca della persona scomparsa e potrà contattare direttamente i soggetti ritenuti necessari all'effettazione della stessa ricerca si allega al presente l'allegato a relativo ai dati della persona scomparsa firmato per il prefetto a Rescio ovviamente la persona scomparsa è Liliana Recinoic datato Trieste 14 12 2021 il giorno 22 dicembre 2021 alle ore 17 05 presso gli uffici della terza sezione della squadra mobile della questura di Trieste davanti al sottoscritto ufficiale di PG sovrintendente capo scuntaro massimo in servizio presso l'ufficio di intestazione è presente IVA la quale dichiara quanto segue domanda signora IVA questo pomeriggio ha telefonato alla questura cosa intendeva segnalare risposta sabato scorso una mia cliente mi ha raccontato che nel rione di san giovanni era scomparsa una signora che frequenta la piscina di quel rione arrivata a casa ho visto l'articolo sul quotidiano online trieste caffè riportante la foto della signora che ho riconosciuto come mia cliente ma di cui non conosco né il nome né il cognome si dà atto che alla signora IVA viene posta in visione la foto sotto riportata sul quotidiano online trieste caffè la signora IVA dichiara che la sotto effigiata foto è quella da lei sopra descritta in cui aveva riconosciuto la sua cliente lunedì non mi davo pace e ho chiamato la questura per verificare la fondatezza della notizia ovvero sia la scomparsa della signora ma l'operatore mi rispondeva di non poter dare informazioni consigliandomi di chiamare i carabinieri di san giovanni martedì 21 dicembre ho chiamato i carabinieri l'operatore mi rispondeva che nella loro stazione non era stata presentata nessuna denuncia di scomparsa stamattina ho visto il quotidiano online trieste prima dove era riportato un altro articolo dedicato alla scomparsa della signora ho quindi pensato che il fatto sia vero e non una fake news ho deciso di chiamare il 112 l'operatore mi ha passato la questura e ora mi trovo qui perché volevo riferire che martedì mattina 14 dicembre mi ricordo senza ombra di dubbio di aver visto passare sul marciapiede davanti al mio negozio la signora in questione vestita con lo stesso giubbotto che lei indossa nella foto pubblicata da trieste prima si dà atto che alla signora iva viene posta in visione la fotografia presente sul quotidiano online trieste prima nell'articolo datato 21 dicembre 2021 a firma di stefano mattia pribetti avente titolo donna scomparsa san giovanni la testimonianza del marito non me lo spiego sono disperato iva riconosce la foto in argomento domanda si ricorda l'ora che che l'ha vista transitare davanti al suo negozio non mi ricordo l'ora precisa però dovrebbe essere passata in un periodo di tempo che va dalle 8 e 15 fino alle 9 oltre al giubbotto di colore scuro come ho già detto la donna indossava un paio di pantaloni di colore scuro senza berretto e con la stessa pettinatura come nelle predette foto col ciuffo di colore più chiaro e mascherina di cui non ricordo il colore non ho visto che portava oggetti con sé possa aggiungere che aveva lo sguardo rivolto a terra come una persona triste pensierosa e si dirigeva in direzione piazzale giobberti ripeto che era una mia cliente ma non di quelle fisse veniva ogni tanto sempre da sola più spesso in estate quando veniva era riservata ordinava e usciva dal negozio di rado ho visto suo marito sono titolare di quel negozio da 9 anni e nel corso di questi la donna mi aveva regalato alcuni coltellini che il marito non poteva più affilare ma che per il mio lavoro andavano benissimo in queste occasioni la signora mi aveva raccontato che il marito di cui non conosco nel nome nel cognome per hobby si dedica ad affilare coltelli nelle occasioni in cui l'avevo vista mi aveva raccontato che il marito aveva la passione della fotografia e che a lei piaceva camminare posso aggiungere che sempre la signora tempo addietro mi aveva mostrato una foto di loro due in moto e che era andata in pensione questo vi sembra sia avvenuto prima del covid domanda per caso tra i suoi clienti qualcuno ha commentato qualcosa in merito alla scomparsa della signora oltre a quanto riferitomi dalla mia cliente sabato nessuno mi ha detto niente per caso la signora e il marito sono mai venuti nel suo locale assieme da quanto ricordo no sa se avesse qualche amicizia nel rione da quello che ne so no posso aggiungere che ogni tanto la vedevo nel bar che si trova all'angolo tra via sancirino e piazzale giubberti ma sempre da sola ha altro da aggiungere no si dato che il presente verbale è stato redatto in forma riassuntiva e viene riletto confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra alle ore 18 analizziamo ora quanto finora è esposto quindi l'attivazione del piano provinciale delle persone scomparse e la testimonianza della signora iva ci sono parecchie incoerenze che balsano subito agli occhi partiamo subito dalla prima che secondo me è quella più grave in assoluto l'attivazione la sera stessa del 14 dicembre da parte della prefettura del piano provinciale persone scomparse come ho letto in precedenza questa comunicazione viene inviata oltre a varie altre istituzioni anche alla questura di trieste stessa dove era stata presentata la denuncia di scomparsa di lilli e al comando provinciale dei carabinieri di trieste come è possibile allora ciò che dichiara iva in sit e cioè che che lei chiama la questura dove è stata formalizzata anche la denuncia di scomparsa e dove alla stessa questura vi veniva inviata la pec dalla prefettura e cioè del piano di attivazione provinciale delle persone scomparse e iva dichiara lunedì non mi davo pace ho chiamato la questura per verificare la fondatezza della notizia ovvero sia la scomparsa della signora ma l'operatore mi rispondeva di non poter dare informazioni consigliandomi di chiamare i carabinieri la questura non può dare informazioni circa la comunicazione di un avvistamento di una persona scomparsa e invita a chiamare i carabinieri successivamente martedì 21 dicembre ho chiamato i carabinieri l'operatore mi rispondeva che nella loro stazione non era stata presentata nessuna denuncia di scomparsa ma allora la pecca arrivata dalla prefettura non l'aveva letta nessuno la cosa sembra veramente molto molto strana e non plausibile riprendiamo con la testimonianza iva in sit dichiara inoltre ripeto che era una mia cliente ma non di quelle fisse veniva ogni tanto sempre da sola più spesso in estate quando veniva era riservata ordinava e usciva dal negozio di rado ho visto il marito poche righe dopo invece si legge che la donna mi aveva regalato alcuni coltellini che il marito non poteva più affilare ma che per il mio lavoro andavano benissimo in queste occasioni la signora mi aveva raccontato che il marito di cui non conosco né il nome né il cognome per hobby si dedicava ad affilare coltelli nell'occasione in cui l'avevo vista mi aveva raccontato che il marito aveva la passione della fotografia e che a lei piaceva camminare posso aggiungere che sempre la signora tempo addietro mi aveva mostrato una foto di loro due in moto e che era andata in pensione questo mi sembra sia avvenuto prima del copido ma era la stessa liliana la cliente riservata che entrava ordinava usciva dal negozio e della quale iva non conosceva neanche il nome per quanto riguarda la descrizione iva in un batter di ciglia perché ci vogliono due secondi in tutto a transitare davanti alla sua vetrina riesce a notare che era liliana indossava un cappotto scuro non è vero dei pantaloni scuri aveva il ciuffetto biondo la mascherina ed era trista e pensierosa wow impressionante ma ciò che mi fa più pensare e riflettere come una persona possa vedere passare per due secondi una donna davanti al suo negozio una mattina x un martedì e poi il sabato successivo ricordarsi di quello specifico passaggio credo che la memoria fissi degli eventi particolari traumatici speciali in qualche modo ma non un fatto così banale come il passaggio di una persona come ne vediamo tante passare davanti ai nostri occhi e ricordarcene non darsi pace ma chiamare la questura il 21 dicembre una settimana dopo l'avvistamento come si fa essere così certi non avere alcun dubbio che la persona vista otto giorni prima passare per due secondi davanti al suo negozio fosse chigliana ma ancora di più come faceva a ricordare chi fosse passato davanti al suo negozio ehi non dimenticare di iscriverti a questo canale edermetalliter grazie a tutti